Uè, non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi, nuovo Fortbyte, oramai lo sappiamo, l'appuntamento con i tutti i Fortbyte ogni giorno dopo pochissimi minuti che vengono pubblicati lo trovate solo su questo canale. Mi raccomando ragazzi che il Fortbyte di oggi dice di andare nella caverna di ghiaccio di Trog. Ovviamente non era necessario vestire anche la skin di Trog, ma perché non farlo? E ovviamente di nuovo la caverna di ghiaccio non può che essere quella imboscata nel bioma innevato. E come vedete già altri giocatori ci sono arrivati, proviamo ad andarci anche noi in modo da capire esattamente la posizione. Sarà probabilmente là in basso, lo sto già vedendo ed infatti ragazzi scendendo di qua noterete un bagliore. Il Fortbyte si trova dentro qua ragazzi ed eccolo se nessuno ci riesce ad ammazzare il numero 49 ragazzi si trova proprio nella caverna di Trog. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, mi raccomando un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo in live tra una mezz'oretta, ciao!